... Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. In apertura parliamo di calcio di Serie D, quinta di campionato che si avvicina. Ad Isernia è partito il nuovo progetto con mister Mazzullo alla guida tecnica, ancora incognita sul futuro del Boiano, dove bisogna saldare le pendenze. Per Agnone e Termoli, allenamenti sereni. Quinta giornata per il torneo di Serie D, classica alternanza per le squadre molisane, con Agnone e Termoli impegnate in casa, Isernia e Boiano in trasferta. Le problematiche riguardano queste ultime citate. Ad Isernia il rinnovamento in società e il nuovo tecnico, Santo Mazzullo, dovrebbero, si spera, portare un repentino cambio di rotta. Anche se, a dire il vero, la rosa dei giocatori non sembra pronta per una risalita in classifica. Zero punti da annullare questo record negativo, oltre al fatto che l'Isernia ancora non realizza un solo gol. La trasferta in quel di Celano rappresenta un primo crocevia stagionale. Acque mosse anche a Boiano, dove il malcontento della squadra è salito in settimana. Per una preparazione alla gara di domenica ha scoppito contro la Miternina non di certo tranquilla. Anche in questo caso l'auspicio è che il calcio giocato possa prevalere, sotterrando con adempienze societarie le varie problematiche del caso. La Miternina è più squadra da casa e servirà una grande prova per uscire indenni. Maggiore tranquillità ad Agnone, dove gli alto molisani ricevono l'Ancona nel big match di giornata. Attesa anche per il ritorno al Civitelle del tanto amato Andrea Sivilla, autore di 40 reti in un anno e mezzo di permanenza ad Agnone. In casa i Granata si trasformano e nella scorsa stagione nessuna big riuscì a violare il Civitelle. Il lavoro certosino di Mister Urbano è la voglia dei giocatori per fronteggiare il team più forte del raggruppamento. Peccato per l'assenza di ricamato per squalifica e di bianchi. Avvio di stagione sfortunato per il centrale ex Isernia, nuovamente ai box per problemi muscolari. A Termoli la vittoria di Porto Recanati ha portato tanto ottimismo e area rinnovata. Al Cannarsa arriva il Fano per una gara che nasconde diverse insidie. Giacomarro ha ripreso subito le redini dello spogliatoio e dato un'impronta maggiore ai suoi uomini. Sull'esperienza dello scorso anno il tecnico sa dove lavorare e dove migliorare per puntare al vertice. La squadra è pronta e l'obiettivo è quello di ottenere il bottino pieno contro i marchigiani. Torna da questa settimana l'appuntamento con la rubrica di Sergio Genovese che ha cambiato titolo. Infatti l'anno scorso era intitolata fino al mese di luglio. Tutto luglio si chiamava Fuoricampo. Invece adesso abbiamo cambiato il nome anche su sollecitazione dello stesso Genovese. Quindi la rubrica l'abbiamo chiamata Controcorrente. Il contenuto comunque resta invariato. Un occhio attento e critico sul mondo dello sport a 360 gradi. Ma vediamo questa prima edizione della rubrica Controcorrente. Ritorno con piacere a condurre questa rubrica seppur l'incipit del nostro primo incontro rimane colorato di pessimismo e anche di un po' di rabbia. Si è rimessa in moto la gigantesca macchina organizzativa del calcio e le perversioni dell'universo professionistico e quello dei dilettanti sono all'ordine del giorno e nessuno si meraviglia. I tifosi della Sambatoria hanno fatto irruzione negli spogliatoi e sostituendosi al presidente e al tecnico hanno chiesto spiegazioni ad una delegazione dei giocatori per la sconfitta rimediata nel derby con il Genova. Con il capo Chino i calciatori hanno dovuto chiedere scusa ed implorare il perdono degli ultra come se nello sport fosse ammesso un solo risultato quello della vittoria. Incredibile. Incredibile è verificare anche che i dirigenti invece di coinvolgere le forze dell'ordine con negligente assopimento autorizzino certe intrusioni che a macchia d'olio si spalmano su tutto il territorio nazionale dal centro alle periferie. Anche dalle nostre parti le cronache appena appena abbozzate parlano di contestazioni mosse al presidente del Termoli che, ascoltate bene, avrebbe manifestato ferma idiosincrasia contro qualsiasi episodio di violenza. Fatti che avrebbero meritato discussioni e approfondimenti con il coinvolgimento di tutti gli attori del mondo pallonaro altro che moviole a mennico rivari sempre valorizzati poiché si dice che l'agenda è questo che vuole vedere e sentire. Su questo argomento senza freni mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe ascoltare pareri pieni di emotività da parte dei dirigenti altolocati. Anche il mio amico Carmelo Parpiglia delegato dal Consiglio regionale ad occuparsi di sport dovrebbe essere attivo su questo versante poiché l'abbrivio che ha avuto rispetto al ruolo che gli è stato conferito mi appare un po' scontato persino un po' scolastico. La giornata dello sport può rappresentare una iniziativa all'atere e non il nucleo di nuovo e migliore progetto per lo sport morisano. Cioè di un mondo pieno di contraddizioni fatte galleggiare da una retorica obsoleta che riconosce allo sport il merito di togliere i ragazzi dalla strada. Continuo a chiedermi li toglie dalla strada per metterli dove? Atletica domani e dopo domani il campo Nicola Palladino di Campobas ospiterà un'altra manifestazione ai campionati regionali individuali il termine per le iscrizioni da effettuare via email sul sito della federazione scade oggi alle 15. Calcio regionale si apre domani con gli anticipi la quarta giornata dei campionati d'eccellenza e promozione. Fine settimana ricco di anticipi nei campionati regionali. Partite così divise tre anticipi in eccellenza quattro in promozione. Dopo la discreta prova difensiva evidenziata a Campobasso il Venafro si prepara a ospitare il Pozzilli per tornare alla vittoria. La classifica dei ragazzi di De Sanctis rimane buona con le prime due vittorie consecutive che tengono i bianconeri comunque nelle zone medio-alte. In crocio tra Rocca Ravindola e Sesto Campano da sempre temibile la squadra di Vittorio Mancini all'inseguimento dei primi tre punti in trasferta il Rocca dal canto suo ha realizzato una vittoria e due sconfitte nelle prime tre. A chiudere il quadro delle partite del sabato di eccellenza la partita pugliese tra Monti Dauni e Montenero. I tre gol segnati dagli adriatici sono stati sufficienti a realizzare sei punti la Monti Dauni è più giù di tre lunghezze. Gara interessante. Sempre per l'eccellenza c'è da registrare la disponibilità del campo di Fornelli da qui a una decina di giorni. Infatti il CONI e la FIGC hanno espresso parere favorevole al primo collaudo del sintetico di Fornelli a cura della detta sport e impianti gioca-gio. Finora il Fornelli ha disputato le proprie partite casalinghe al comunale di Capriati al Volturno e sarà così anche per la partita di domenica contro il Vairano. Una questione simile c'era il Campobasso che attende il risponso dei tecnici comunali che nella giornata di lunedì hanno verificato i lavori da fare allo stadio Scorrano laddove si deve rifare il terreno di gioco e porre rimedio ad alcuni guasti dell'impianto di irrigazione. La spesa potrebbe anche essere ingente. Una volta stimata la spesa stessa i dirigenti rosso-blu si metteranno a tavolino con gli amministratori di Palazzo San Giorgio per ripartire i conti. Nel caso malaugurato in cui dovesse saltare la migrazione allo Scorrano per quest'anno la società del Campobasso provvederà a integrare la struttura delle Acli con una copertura situazione comunque in evoluzione. Passiamo alle gare di promozione Ben 4 trasferta insidiosa del Real Termoli in quel di Cerce Maggiore lanciatissima la squadra di Patron D'Angelo cercherà il colpaccio esterno su un campo non proprio agevole. Lanciate in classifica anche le Acli una delle sorprese di questo inizio di torneo la squadra di Rienzo cercherà di dare un dispiacere alle Acli Torre Maiano neopromosse in promozione. Il tecnico rosso-blu ritrova Lorenzo Viglione che rientra dopo tre turni di squalifica per un'espulsione rimediata nello scorso campionato. Viglione potrebbe entrare al posto di De Vivo ma in questo caso il condizionale è d'obbligo. L'FC Molise di Ugo Armanetti troverà pane per i propri denti a piedi Montematese contro il Treppini. Il tecnico Campobassano non si fida della formazione casertana e tiene sull'attenti i suoi. In settimana Armanetti potrebbe contare anche su un nuovo innesto. Si tratta dell'attaccante Angelo Ferro che da qualche giorno si sta allenando con la squadra del capoluogo. Potrebbe essere l'attaccante che mancava all'FC Molise anche se il giocatore ex Petacciato e Biferno ancora deve trovare l'accordo con la società neopromossa in promozione. Infine l'Ermestoro all'obbligo dei tre punti in casa contro il Rocca Sicura per Longo una media punti perfettibile in queste prime tre giornate. Solo un punto a partita. Giovanni De Palma classe 96 del Roseto dall'8 ottobre si aggregherà alla formazione primavera della Sampdoria per sostenere un provino nella società blucerchiata. Il tutto rientra nel programma di valorizzazione dei giovani che la società Bianco Celeste è intenzionata a proseguire. La ditta Sport e Impianti Gioca Gio anche quest'anno ha praticamente messo a disposizione la borsa di studio Angelo De Bernardo per studenti atleti per l'anno 2012-2013. Il centro M2 di Campodipietra ha aperto la nuova stagione con diverse offerte che vanno a coinvolgere tutte le attività che spaziano dal settore acqua a quello di terra. Si tratta tra l'altro di offerte molto molto convenienti anche a livello di concorrenza con altre strutture. Quindi non è soltanto una struttura confortevole il centro M2 ma soprattutto c'è a disposizione uno staff qualificato. Ai nostri microfoni una delle istruttrici. Mena Picciano è responsabile qui presso il centro M2 di quale attività? Allora io sono un tecnico di Les Mills riguardante l'allenamento del CX Works e poi mi occupo nello specifico della Fit & Box. Perfetto però adesso che sembrano paroloni molto semplicemente di che si tratta? Allora per quanto riguarda Les Mills è un'azienda che milita nello sport da decenni il centro M2 ha aderito a questa nuova azienda nello specifico con questo allenamento che si chiama CX Works che è focalizzato sui muscoli del core più banalmente sui muscoli degli addominali è un allenamento che si sviluppa in 30 minuti questo non vuol dire che non sia efficace ma sostanzialmente va a restringere il tempo focalizzando appunto sui muscoli che solitamente lavorano nella parte finale dell'allenamento quindi tutti i muscoli dell'addome del dorso e dei glutei è una disciplina adatta a tutti appunto perché è concentrata in 30 minuti e anche a chi magari non è abituato a fare sport bisogna provarla per vedere l'efficacia appunto dell'allenamento certamente per l'altra invece? Allora per l'altra la Fit & Box sostanzialmente è nata grazie alla collaborazione di due master trainer Mario Di Loreto e Sabrina Vanni Di Loreto è Molisano Doc per cui ci tengo a dirlo e loro hanno creato questo marchio la Fit & Box che nasce dagli sport loro hanno militato per tanti anni negli sport di combattimento e hanno creato appuntamento appunto un metodo di allenamento originale e fondato su una metodologia che va ad allenare tutto l'apparato cardiocircolatorio sostanzialmente si va a basare su sette motivazioni che portano l'utente a frequentare un corso di fitness il dimagrire prevenire le malattie cardiocircolatorie rassodare il corpo rilassarsi e scaricare le tensioni ma non per ultimo divertirsi e apprendere e socializzare oltretutto volevo dire che il centro M2 lancerà appunto questo nuovo allenamento CX Works il 3, 4 e 5 ottobre quindi vi invitiamo a provare e per la fit in box vi aspettiamo in sale il martedì e il giovedì scadono lunedì le iscrizioni alla Coppa Studenti 2013-14 organizzata dal Csi di Campobasso la manifestazione di calcio a 5 prevede squadre formate al massimo da 10 giocatori le iscrizioni si effettuano a Piazza Molise a Campobasso presso la sede del Csi lo start al torneo è previsto per il 7 ottobre calcio a 5 di Serie C2 prende il via domani la stagione 2013-14 per il Sant'Elen Acqua Molise si parte con una trasferta Rocca Ravindola alle 15.30 in campo contro Michi Futsal ci è venuto a trovare in redazione Federico Terriaca Federico Terriaca sabato si parte con il campionato quindi contro chi giocherà il Sant'Elen a Molise? sabato affronteremo una squadra molto ostica fuori casa che è Michi e Mike Futsal una squadra che abbiamo già affrontato in Coppa Italia nel primo turno di Molise Cup avete perso nel primo turno di Molise Cup ma c'erano delle attenuanti all'epoca sì perdemmo 6 per 6 a 2 e secondo me la partita è stata determinata molto dal carico di preparazione svolto nelle prime tre settimane ecco vogliamo parlare un po' in generale di questo Sant'Elen a Sanita che squadra è e soprattutto come si presenta ai nastri di partenza di questo campionato? sicuramente l'obiettivo l'obiettivo della società è quello di fare un campionato di vertice la squadra è per molti versi cambiata rispetto a quella dello scorso anno abbiamo una squadra molto più esperta l'anno scorso abbiamo una squadra composta da giocatori molto giovani invece quest'anno l'abbiamo rinforzata con innesti di qualità e soprattutto di esperienza quali saranno i principali antagonisti sulla carta quello che si sa di questo campionato di Serie C2? sicuramente i mici Mike Futsal posso dirlo perché abbiamo già affrontato questa squadra e a mio parere è una squadra molto buona quindi sicuramente darà del filo da torcere ma noi come ho appena detto ce la giocheremo fino alla fine le diremo la nostra su ogni campo mister Gianrusso su chi scommette in particolare adesso sei parte in causa di questa domanda però fai finta che non fai parte dell'organico su chi si può scommettere del vostro team adesso mi metto in difficoltà sicuramente la squadra come ho detto è una squadra molto forte quindi sicuramente il mister può disporre di un organico molto buono e quindi ogni ruolo diciamo ci sono più giocatori quindi potrà scegliere avrà una vasta scelta è iniziata la stagione della nuova pallavolo campo basso ripresi i corsi sia di mini volley che gli allenamenti della prima squadra i nostri microfoni Lucia Dispenza una delle allenatrici Lucia Dispenza è iniziata la stagione della prima squadra della nuova pallavolo campo basso oggi si parla di allenamenti però è tutto in preparazione di questo campionato di serie C le ragazze ovviamente stanno affrontando dei carichi abbastanza pesanti però rispondono bene noi siamo fiduciosi e soddisfatti comunque della risposta sia fisica che psicologica delle ragazze l'esperienza dell'anno scorso in serie B ha fatto crescere sicuramente le pallavoliste della nuova pallavolo campo basso forse perdere insegna anche un po' di più delle vittorie sì sicuramente poi la maggior parte delle ragazze veniva da campionati giovanili abituati alla vittoria sicuramente le sconfitte le hanno forgiate noi siamo convinti che il campionato di serie C abruzzese sia un campionato più alla nostra portata dove le ragazze sicuramente metteranno in mostra l'esperienza maturata l'anno scorso e siamo convinti che affronteremo un bellissimo campionato anche quest'anno come sempre una squadra formata da molisane perché questo è l'obiettivo della nuova palla a volo portare avanti gli atleti locali per perché no poi girarli in un futuro anche a squadre di fuori regione sì noi vabbè da sempre la nostra caratteristica è quella di fondare tutto sul settore giovanile quest'anno ancora di più la prima squadra sarà ulteriormente svecchiata ci saranno ci saranno ragazzine anche di under 14 che ruoteranno nella prima squadra e di questo noi siamo soddisfattissimi perché comunque è una soddisfazione poi vedere arrivare le nostre atlete in alto sia nella nostra regione che fuori Danza prende il via il primo ottobre il corso di balli di coppia organizzato dall'associazione ballo molisaneo della maestra Letizia Maselli i corsi si svolgeranno il martedì e il giovedì presso la sala superiore dell'hotel Rinascimento a Campobasso per iscriversi basta presentarsi presso la struttura di Via La Banca nei giorni delle elezioni calcio regionale Ripa Limosani in questa stagione riparte dalla prima categoria i gialloblu hanno una settimana in più per allenarsi infatti lo start al girone B è previsto per il 6 ottobre ma i ragazzi di Marrone di Pino Marrone hanno già rodato i motori in Coppa Molise ne abbiamo parlato con Luciano e voi volete fare bene insomma nel campionato di prima categoria volete un po' anche riscattare quella retrocessione amara che c'è stata l'anno scorso e tornare subito nel torneo di promozione guarda cogli proprio il balzo per dire che se sono rimasto è perché tengo a questa di nuovo diciamo così risalita in promozione perché al di là degli episodi dell'anno scorso la squadra comunque si sente molto pentita e amareggiata tutti hanno quel desiderio di riscatto perché comunque sia al di là degli episodi sono stati molto ingranditi noi non siamo quei cattivi ragazzi che la stampa senza nessun rancore assolutamente non siamo quei cattivi ragazzi che tutti ci credono e quindi siamo un gruppo di amici che a volte perde le staff e quest'anno pensiamo sì all'anno del nostro riscatto vedi anche l'ingresso del nuovo mister Marrone che si è talmente integrato che ci fa sentire veramente un'altra grande famiglia dopo tutti gli anni di onorato lavoro per mister Bentio ecco tu hai già vinto il campionato qui a Ripa in prima categoria c'è voglia comunque di confermarsi cioè di lottare sarà dura perché poi il campionato è difficile però voi ci siete e volete dimostrare di valere il primato premetto che quest'anno la società non ci ha chiesto nulla però ci siamo l'organico c'è e vogliamo ambire noi il nostro grande sogno è andare in promozione poi il calcio è strano giochiamo ogni domenica per il momento cambiamo la giornata vediamo a marzo dove ci ritroviamo e se siamo in testa voglio dire che ci meritiamo il Montagano invece prenderà parte al torneo di seconda categoria la stagione inizierà con il turno di riposo per il debutto bisognerà attendere il 13 ottobre ne abbiamo parlato con Valente Roberto Valente giocatore del Montagano Petrella potremmo dire quest'anno si è creata questa fusione da che idea è nata? è nata dall'idea che vogliamo abbiamo un progetto di crescita insieme al Petrella viste le poche disponibilità delle persone sia a Montagano e sia a Petrella fare una squadra solo a Montagano non era facile la stessa difficoltà l'ha vissuta il Petrella e quindi ci siamo uniti e abbiamo trovato un accorto è un gruppo di amici in primis un gruppo di giovani con qualche vecchia guardia insomma speriamo di divertirci e speriamo di fare un bel campionato ecco dunque avete deciso di unire le forze in sinergia per darvi una mano e devo dire comunque la gara con il Ripali Mosani avete comunque dimostrato che per la seconda categoria ci siete e potete fare un ottimo campionato sì loro ovviamente sono molto più forti sul piano tecnico e tattico sono più organizzati noi stiamo facendo un lavoro soprattutto fisico e sembra che sia il primo tempo sia il secondo tempo fisicamente abbiamo retto ovviamente poi gli episodi e la differenza si è vista durante tutta la gara abbiamo dato il meglio e speriamo che il campionato insomma ci premi perché siamo un bel gruppo un'ultima cosa il campionato al via fra due settimane se non sbaglio quello di seconda categoria voi siete inserite nel girone con pagine un po' del Molise centrale possiamo dire sì c'è qualche squadra della parte di Foggia c'è qualche squadra del Molise centrale si prospetta una bella sfida un bel campionato si parte fra due settimane se le cose stanno come ufficialmente la prima giornata dovemmo riposare e poi iniziamo subito qui di nuovo a Ripalimosani con la squadra di seconda categoria speriamo bene insomma la differita della partita tra Ripalimosani e Montagano andrei in onda questo pomeriggio alle 17 su Tele Molise 2 canale 12 e su Tele Molise Sport questa sera alle 20 e 30 canale 112 Automobilismo la C-Management in collaborazione con il club e gli amici delle auto d'epoca ha organizzato per dopo domani il primo raduno Spider e Cabrio potranno partecipare tutti i proprietari di vetture scoperte di tutte le età e marche bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio